presentiamo i prossimi appunti all'angolo rosso Luca Tamborra Baggio Ring Vicenza all'angolo Fabio Barando Box Calanzere il signore Gianluca Cecafosso di Padova ringraziamo per il servizio di Lumerine Tiziana e Daphne Daphne in questo momento ciò che dica pesi massimi 8,91 kg Daphne Il prossimo incontro si svolgerà sulla lunghezza di tre riparazioni da tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. Il prossimo incontro si svolge la lunghezza di tre minuti ciascuno. La selezione musicali, la parte di Forbi DJ E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per i deputanti Per i massimi oltre a 91 kg Luca D'Angorra E' la seconda volta per l'ultimo incontro E' la prima ripresa E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per la LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES E' la seconda volta per l'ultimo incontro della LES Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.